Nella puntata precedente E noi siamo qui In mezzo al nulla L'ho portato via gli arpioni E già Noi dove siamo finiti No Non sai nuotare Più o meno Incredibili imbalzi del pallone di Waka Meglio dello scudo di Capitano America Vai di coda di Fenice Oh no I delfini assassini E questo coso Sì 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 perché pensavo che i nemici fossero i delfini assassini No Sto coso è più una rottura di scatola Due delfini Dio la verità Eh che faccio Eh vado All in perché Cioè potrei anche attaccare il trito di scaglia Ma Non so quanto potrebbe essere utile Proviamo Amblioplia Speriamo che funzioni Sì Funziona Ottimo Mancato Quindi dobbiamo semplicemente mantenerlo in Amblioplia perenne Aia Vabbè Non fa neanche tantissimo Non posso usare le pozze Nel peggio di caso Waka Attaccalo Ora ne spawnano altri Chiaro Non manca E questo è il suo secondo attacco Quindi Dopo il suo boss Ho un turno io E in quel turno devo lanciarlo un'altra volta Oh no Quello fa male Dimmi che missa Perché fa male Mi ricordo che faceva molto male Non missa Mi ha tolto 115 Pozza Meglio non rimanere troppo bassi con la vita E nuovo Amblioplia Amblioplia Non so perché dico Amblioplia Però vabbè Titus Waka deve ricaricarsi la vita Quindi Waka Pozza Su te stesso Perché Titus toglie anche molti più danni Quindi E' meglio se lui attacca Non dirmi che è morto No Dal suono sembrava fosse morto Ma forse ho fatto solo critica Questo era il secondo Su attacco Probabile Attaccate tutti Titus Così mi si carica il turbo E lo tiro giù Aia Cento di danni Non ce l'ha più Non ce l'ha più Merda Ho finito gli MP Eh ma qui è un casino Dai la vita a Titus Perché Tocco Drain Gli fa ricaricare la vita Quindi è rischioso So che potrei usare un etere Ma Sarebbe uno sfreco tremendo Su Waka Vediamo quanto si ricarica Con Tocco Drain Ma non su Waka 57 Vabbè Ottimo Che culo I combattimenti su attacqua Non mi piacciono Perché non posso usare Il team che voglio io Perché a quanto pare Molti non stanno Militari Beh Waka e Titus Hanno preso un botto Di esperienza No Ha preso tutti uguali Vabbè Titus ha fatto due livelli Chimari non è neanche salito Due abilitosfere Gelo Bomber E anello Nettuno Anello Nettuno Riduce i danni Il 50% D'acqua Ce l'avevamo prima Questa è Kilka E gelobomber Immagino che abbia Danni ghiaccio Anche loro Fanno la città Tipo sulle palavitte Cioè Almeno fatela Sulla terraferma Invece no Distrutto tutto Perché noi Non l'abbiamo fermato Anche se l'abbiamo fermato Gli abbiamo tolto 4000 Anche se l'abbiamo fermato Da gli avevamo speranza I was in a foreign world I wasn't going home This was my new reality And I was stuck in it for good Siamo arrivati a Kilga Porto di Kilga Evviva La mia salvosfera La mia salvosfera Siamo la salvosfera Yuna Ho venuto dal templo in Besaid Oh, la salvosfera La salvosfera Se non c'è nulla salvosfera qui, mi permette di fare la salva Grazie B.T I nostri amati Cattavamo che sarebbero fiendi Por favor, prendi me a loro E poi tocca a noi Che scendiamo sempre dopo Ma non ci possiamo muovere Grazie E poi vediamo cosa possiamo fare per aiutare in città Eh? Grazie Noi invece andiamo in giro a cazzeggiare In realtà volevo livellare i personaggi Lulu non può fare un tubo La sposto ma non può prendere niente Tidus addirittura ha una potenza fisica E gambe Gambe è tipo fuga però per tutta la squadra Non è un gran che utile però Poi dopo ci spostiamo qua Per prendere aste Che è ottimo E poi chiaramente devo passare per forza da qua sotto Perché anti-vis mi serve Yuna Può Quasi prendere un'altra magia Kimari Non è livellato per un tubo E Waka può prendersi un po' di potenza magica Che cazzo se ne fa? Vabbè Waka un po' di potenza magica E' inutile che gli ricarico la vita a tutti Perché tanto posso salvare qua Beh andiamo avanti Vediamo cosa succede Che succede? Lei La sua casa è ancora intera Ah ok Briacone E Che velocità Cioè si sono messi subito a non fare A loro lavorano Waka guarda l'orizzonte Così Tranquillo Rilassato Certo 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 E' un problema Certo 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 FILED WITH GRIEF OVER THEIR OWN DEATH, THEY REFUSE TO FACE THEIR FATE. THEY YEARN TO LIVE ON, AND RESENT THOSE STILL ALIVE. YOU SEE, THEY ENVY THE LIVING. AND IN TIME, THAT ENVY TURNS TO ANGER, EVEN HATE. SHOULD THESE SOULS REMAIN IN SPIRA, THEY BECOME FIENDS THAT PREY ON THE LIVING. SAD, ISN'T IT? THE SENDING TAKES THEM TO THE FAR PLANE, WHERE THEY MAY REST IN PEACE. SUMMONERS DO THIS? Mh... Grazie a tutti. 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 Yeah? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah? Grazie a tutti. Va bene.